Ormai tutti parlano di smartphone pieghevoli, ne abbiamo già visti tanti, ed Apple è veramente in ritardo alla festa. Anzi, per me lo dire non c'è ancora arrivata. Ma se ce la facessi arrivare io? Aspettate un attimo. Per questo attacco d'arte ci servirà due iPod Touch, o due telefoni in generale da compromettere, quindi di basso valore. Uno scotch, che non è quello che si beve ma è quello che attacca le cose. Con questo video partiamo malissimo, me lo farò bannare con queste freddure. E un paio di forbici dalla punta arrotondata rigorosamente. Adesso faremo quello che gli ingegneri ad Apple non sono ancora riusciti a fare. Che schifo, questo è anche appiccicosissimo. Ma perché mi vengono in mente queste idee maledettome? Allora, in teoria, no? Si prendono i due smartphone, li si chiude tipo a libro. Questa tecnologia è la stessa usata nel Galaxy Fold, perché i display sono interni, non del Mate X. Dovremmo a quanto pare rinunciare ai tasti del volume, ma per il progresso scientifico questo ed altro non ascolteremo la nostra musica. Stiamo assistendo alla prima creazione del primo smartphone pieghevole di Apple, meglio, del primo iPod pieghevole di Apple della storia. Tant'è che, come potete vedere, anche della sua nuova colorazione Product Red non si apre. Perché effettivamente se lo leggo anche sopra non si può aprire. La mia carriera da ingegnere è già finita. Però, tagliando questa parte in eccesso, in teoria, senza rischiare magari di graffiare il display... Oh, ragazzi! Doppio display, doppia porta lightning, doppia batteria, chiusura libro. Funziona meravigliosamente e non si usura nemmeno. Ragazzi, questo ve lo autografo, ve lo metto su eBay, ha 15.000€. Se qualcuno lo vuole, io lo consegno personalmente. No, scusatemi per queste idiozie, ma dovevo arrivare a 10 minuti e 0,1. Perdonate, partiamo col video. E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Moltissimi di voi mi hanno chiesto di fare un video in cui riassumo un po' il punto della situazione per quanto riguarda l'iPhone pieghevole. Vorrà Apple realizzare uno smartphone pieghevole? Lo sta già facendo? Se sì, a che punto è del processo di creazione? Ma prima un veloce riassunto su come è messa la situazione attualmente, la scena della concorrenza. Il primo smartphone pieghevole ad essere stato presentato e commercializzato effettivamente fu il Royal Flag Spy che vi ricordo io aver acquistato alla modica cifra di 1.300€ ed è ancora fermo nella spedizione chissà dove, chissà quando arriverà, se arriverà. Successivamente è arrivata Samsung presentando il Samsung Galaxy Fold, ci ho fatto un video dedicato. E infine è arrivata Huawei presentando il Mate X che nonostante tutte le vostre critiche sotto il video che ci ho fatto, rimane il mio smartphone pieghevole preferito al momento. Guardando questo video scoprirete che sì, Apple ha intenzione di realizzare uno smartphone pieghevole ma come a suo solito lo farà a modo suo. Non seguirà le linee guida della concorrenza, anche se ne verrà pesantemente influenzata. Se siete curiosi di sapere perché, non perdiamo tempo e cominciamo subito. E per cominciare, per aprire le danze, vi voglio leggere l'inizio di un articolo di Apple Insider che recita così, ve lo traduco dall'inglese. Apple non ha inventato lo smartphone, il tablet, il mouse, il CD-ROM, il Wi-Fi, i laptop, i computer o gli smartwatch. Apple ha sempre saputo che essere il primo non è quello che conta e certamente lo sa anche per gli smartphone pieghevoli. Se ci fate caso, questa affermazione è vera. Il primo computer non è stato di Apple, il primo smartwatch non è stato di Apple, soprattutto il primo smartphone non è stato di Apple. Però quando Apple è arrivata nel mercato di tutte queste tecnologie lo ha indubbiamente stravolto. Può piacere, può non piacere, ma il cambio di pagina c'è stato grazie ad Apple. E così probabilmente sarà anche per gli smartphone pieghevoli. Quindi sicuramente non sarà un prodotto che l'azienda della mela rilascerà a breve tempo. Non parliamo di mesi, parliamo di anni, probabilmente uno o due anni minimo. Perché se ci pensate, la tecnologia pieghevole utilizzata sia da Samsung che da Huawei per realizzare il Galaxy Fold e il Mate X comunque è una tecnologia molto embrionale. Devo riconoscere che Samsung e Huawei sono stati bravi a dare il calcio di inizio. Tant'è che il fatto di avere il monopolio per il momento sulla commercializzazione di questa nuova tecnologia gli ha permesso di fissare dei prezzi molto alti. Parliamo di 2.000 euro per il Galaxy Fold e più di 2.200 o 2.300 euro per il Mate X. Questa è la prova del fatto che si parla di una tecnologia nuova, rivoluzionaria, futuristica, mi azzarderei addirittura dire. Ma c'è da ricordarsi che Apple ha iniziato a registrare brevetti di schermi pieghevoli e tecnologie di smartphone che si piegano sin dal 2016 e continua ad aggiornarli. E questa è la cosa bella. Addirittura da poco ci sono state due dichiarazioni semi-ufficiali da parte di due figure molto rilevanti ovvero Tim Cook e Steve Wozniak. Quest'ultimo in particolare ha dichiarato a Bloomberg che Apple è stata l'azienda leader per un bel po' di tempo in piccole aree come per esempio il Touch ID, sensore biometrico, il Face ID, il riconoscimento facciale e il pagamento veloce con l'iPhone, Apple Pay. E su questo non ho nulla da dire. Pura verità. Continua poi. Per adesso non è leader in aree, in sezioni come gli smartphone pieghevoli e questo mi preoccupa perché voglio a tutti i costi un iPhone pieghevole detto dal cofondatore di Apple praticamente. E invece per quanto riguarda Tim Cook, sempre dichiarato a Bloomberg non sono mai stato così tanto ottimistico riguardo dove è arrivata Apple oggi e Tim avrebbe giustificato questa piccola discesa di Apple ultimamente l'abbiamo visto gli affari non gli sono andati proprio benissimo come un piantare semi, seminare, che è una metafora per dire che stanno lavorando sui prodotti futuri e che saranno un qualcosa di spaziale. Ovviamente questo è molto generico, è un po' ottimistico pensare già subito agli smartphone pieghevoli però Apple ci sta indubbiamente lavorando sopra. E ne abbiamo una prova da parte di un sito coreano, At News, che avrebbe rilasciato una dichiarazione molto importante che riguarda Samsung e Apple ovvero, precisamente il 27 febbraio, la divisione display di Samsung avrebbe creato un set di display pieghevoli per consegnarli ad Apple. Il set di display, che sono trattati come se fossero di uno smartphone, ha una diagonale di 7,2 pollici nel pannello esteso e una diagonale da 7,2 pollici è di 0,1 pollice più piccola rispetto al Galaxy Fold. Quindi sì, Apple ha effettivamente comprato degli smartphone pieghevoli da alcuni fornitori, tra cui Samsung, ed è probabile che se venisse rilasciato uno smartphone pieghevole di Apple, un iPhone Foldable, utilizzerà proprio un display Samsung con la tecnologia MicroLED. Questo però invece è un brevetto interamente di Apple, registrato già da un po' di tempo, che penserebbe ad un nuovo metodo per evitare di danneggiare, corrompere pixel o comunque distruggere lo schermo man mano che giorno dopo giorno viene aperto e chiuso, aperto e chiuso, che è diciamo il fattore che preoccupa un po' tutti noi. Questo continuo sottoporsi a pieghe da parte del display non è certamente positivo. E per rimediare a tale problema Apple starebbe pensando di scaldare, avete capito bene, scaldare la parte pieghevole, probabilmente utilizzando gli stessi pixel del display e questo aiuterebbe a migliorare le cose, a renderlo più flessibile, non sono un tecnico purtroppo, però è innovativa, è intelligente come soluzione. Queste sono tutte prove che indicano che Apple sta lavorando a un iPhone pieghevole. E a conferma di quanto sostenuto all'inizio del video da Apple Insider, ovvero che Apple non è mai la prima ma fa sempre le cose in modo diverso, attenzione che non ho detto migliore, ho detto diverso, un esempio potrebbe essere ritornando indietro di due anni quando uscì l'iPhone X nel 2017, il primo iPhone senza bordi, indubbiamente per un bel po' di tempo è stato lo smartphone con il mento più sottile rispetto a tutta la concorrenza. Il mento, per chi non avesse capito, è la parte inferiore, lo spessore inferiore sopra il connettore Lightning. E questo perché Apple, contrariamente a tutti gli altri, ha adottato una tecnologia particolare che gli permise di piegare il display OLED, ripiegarlo su se stesso, in modo da avere molto meno pannello da dover contenere in basso e quindi poter fare un mento, un bordo più sottile. Tecnologia che nessun Android per un bel po' di tempo è riuscita ad emulare. E questa è la prova che Apple, quando fa le cose, fa bene. Non è stata la prima a proporre uno smartphone senza bordi sul mercato, ma quando lo ha rilasciato, lo ha fatto come si deve. E questa cosa non l'ho detta solo io, ma l'ha scoperta Marcus Brownlee in un video oramai vecchio, che però vi consiglio di andare a vedere dato che è molto interessante. Quindi oramai è sicuro che dovremo aspettare molti anni per un iPhone pieghevole. Ma nessuno blocca i concept e la possibilità di immaginarcelo, di renderizzarlo. In particolare il sito foldable.news se l'ha immaginato così, molto simile direi al Mate X, solo che ci ha spiccicato sopra il sistema operativo iOS. Di fatto come potete vedere una volta aperto è un iPad, un iPad mini, e poi una volta chiuso i display da smartphone sono sull'esterno, sembra un iPhone XR praticamente. Ovviamente questo è un concept, non è un leak, nulla di tutto ciò proviene da Apple, Apple scaturisce semplicemente dall'immaginazione di un utente. Ad ogni modo sarei veramente felice di vedere un iPhone pieghevole da parte di Apple, vedere cosa si inventeranno di rivoluzionare a questa volta. Mi toccherà aspettare un bel po', ci toccherà aspettare un bel po', ma potete starne certi, quando uscirà sarò il primo a trattarlo sul canale. Detto questo ci tenevo a realizzare un video dove vi informavo anche sul progresso di un eventuale iPhone pieghevole da parte di Apple, come mi avrete chiesto in moltissimi. Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice, seguitemi su tutti i miei social network, come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione, cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video, e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!